La Sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Buongiorno professor Manfredini, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno e grazie dell'invito. Con il professor Manfredini parleremo di tempo, ovvero come si rapporta il nostro corpo, come ci rapportiamo noi con il tempo. Questo è un periodo in cui si viaggia facilmente. Si parla spesso di jet lag che è la problematica fondamentalmente di spostarsi volando in altri paesi e trovarsi a quel punto un po' scombussolate rispetto alle nostre abitudini orarie. Vogliamo dire, professor Manfredini, intanto qual è il rapporto con le nostre abitudini orarie e questo spasamento che si può creare viaggiando? Lei giustamente ha parlato di tempo. È una disciplina scientifica specifica, molto nuova, avrà una cinquantina di anni, quindi comunque è relativamente nuova, che si chiama cronobiologia, ovvero sia cronos e bios, il tempo rapportato alla vita, alle funzioni vitali quotidiane. Questo perché? Perché il nostro organismo risponde ad un'organizzazione molto precisa, regolata dai ritmi circadiani, circa dies, circa un giorno, presso poco un giorno, dovuto al fatto che la Terra ha un moto di rotazione sul proprio asse della durata di circa 24 ore, in realtà un pizzico più lunga, in cui una metà della giornata è illuminata e una metà della giornata è buia. Quindi da quando esiste vita sulla Terra, gli organismi sono regolati secondo i ritmi circadiani. Quindi giustamente siamo in estate, si viaggia, nel caso il viaggio sia un viaggio rapido, ovvero sia in aeroplano, un viaggio, attenzione, che attraversi dei meridiani, un volo transmeridiano, perché se noi facciamo Roma città del capo, non avremo il jet lag, avremo la stanchezza da viaggio, avremo tutti i sintomi, ma non sarà il jet lag. Se invece facciamo Roma New York o Roma Pechino, a seconda se ci spostiamo verso ovest o verso est, l'orologio che abbiamo al polso, quando arriviamo, segnerà un'ora diversa dall'ora del territorio. Da cosa dipende questo? Dipende da quanto è lungo il volo e da quanti fusi abbiamo attraversato. Facendo un esempio sempre abbastanza banale, supponiamo di partire alle 10 per New York, il volo dura circa 8 ore, arriveremo pressa poco alle 18 con il nostro orologio che avremo al polso, poi magari le procedure di dogana, la coda, l'immigrazione, il taxi, se arriveremo in albergo che magari sono le 9 o le 10 di sera, per il nostro organismo e per il nostro orologio, ma dobbiamo togliere 6 ore del fuso e quindi a New York saranno le 3 o le 4 del pomeriggio. Mi lasso in piena attività e noi siamo stanchi, abbiamo fame, abbiamo di cenare e l'andrà a letto. Questo è come si presenta il quadro, da dei disturbi, questa desincronizzazione che è stata la prima ad essere scoperta, perché è una desincronizzazione rapida. Quindi all'inizio chi è che ha sofferto più di tutti del jet lag? I piloti e il personale di equipaggio, in particolare gli assistenti di volo, una volta si chiamavano hostess, che avevano dei disturbi come per esempio disturbi del ciclo, cicli anovulatori, avevano difficoltà alle volte per la gravidanza e poi naturalmente tutta una serie di disturbi che più il pilota sono un po' pericolosi, quindi la sonnolenza, il fatto di avere un deficit di attenzione, di precisione, ci si sente un po' sfasati, qualche volta anche irritabili. Magari uno non ha fame, ma in realtà è perché ha fame negli orari sbagliati e quindi non ha voglia di mangiare quando è ora di mangiare. Tutta questa serie di disturbi li possiamo portare chiaramente nel frequent flyer, quindi chi lo fa spesso, chi lo fa per lavoro, chi ci lavora proprio sull'equipaggio, sul turista e anche sulla persona che ogni tanto prende un volo. Una delle categorie per esempio che hanno quasi tutte, hanno un cronobiologo di fiducia, sono gli sportivi agonisti, perché si devono spostare molto frequentemente e devono mantenere alte le performance. Un esempio classico è il tennis, gli sportivi tennisti, noi vediamo magari la finale o la semifinale, ma molti vengono eliminati a primo turno. questi prendono subito un aereo e si spostano da una città all'altra per andare a fare il primo turno in un'altra città. Chi è fortunato fa due settimane e arriva fino in finale a Wimbledon, ma non è così per tutti, la maggior parte si deve spostare. E tutti gli sportivi, ecco, quindi tutte queste categorie possono soffrire del fuso orario con questa serie di disturbi. Quindi problematiche legate appunto a questo cambiamento delle proprie abitudini orarie. È un problema questo che riguarda tutti allo stesso modo o c'è chi lo soffre maggiormente e chi magari riesce a riprendersi un po' prima da questi, diciamo, stress da viaggio? Questa è una bella domanda perché molte volte la persona, specialmente magari la persona giovane, diceva, a me francamente non ha fatto assolutamente una piega. È vero perché per i disturbi da desincronizzazione vige la regola dell'un terzo. Cioè un terzo delle persone lo soffrono molto, con disturbi anche gravi, un terzo in una maniera molto lieve, un terzo assolutamente non ha il minimo disturbo. E questo vale anche per l'ora legale o per tutte le desincronizzazioni. Poi all'interno del gruppo delle popolazioni possiamo identificare chi lo soffre un po' di più o un po' di meno. I giovani, i ragazzi sono abituati a fare la notte in tutti i modi, i medici che fanno i turni di notte, cioè chi è un po' abituato lo soffre meno. Chi è un po' più anziano magari, oppure metodico, quindi una persona che abbia degli orari ben stabiliti, che va letto ad un'ora stabilita, si sveglia ad una stabilita, ecco che questo lo scombussola in maniera importante. E la direzione del volo, perché non è la stessa cosa spostarsi verso ovest o verso est. Prima abbiamo fatto l'esempio di New York. Andando verso ovest la giornata la allunghiamo, cioè arriviamo là, che dobbiamo mettere l'orologio indietro perché là è pomeriggio e per noi è sera. Se andiamo in Cina è l'opposto, la giornata viene accorciata. E siccome dicevo all'inizio che il ritmo circadiano prevede un 24 e un po' di più, l'organismo accetta meglio allungare la giornata che accorciarla. È calcolato, per esempio, che per recuperare la piena efficienza, se si vola verso ovest si recupera un'ora e mezza al giorno. Quindi sei ore di fuso in quattro giorni sono recuperate. Se andiamo verso est sono meno di 60 minuti al giorno, quindi occorrono sei giorni e qualcosa per recuperare eventualmente sei fusi orari. Questa è un pochino la regola generale. C'è uno scioglilingua inglese che dice West is best and East is least. Meglio andare verso ovest e andare verso est è peggio. È quello che viene usato comunemente, ma è scientifico. Professor Manfredini ci ha parlato poco fa del fatto che chi per lavoro affronta dei turni, quindi già ha una certa abitudine a scombustolare un po' la propria giornata, affronta meglio questo tipo di disagio. Ma fare i turni, cioè lavorare a turni diversi, chi ha questo tipo di impegno professionale, come può affrontare questo problema? Perché non è più il caso isolato magari di una vacanza, di un volo aereo, ma una quotidianità che poi si prolunga nel tempo. Come è organizzata la giornata di chi professionalmente ha questo tipo di gestione del lavoro? Questo è un argomento molto importante perché la cosiddetta sindrome del lavoratore turnista, perché adesso è riconosciuta come sindrome ed è quindi tutelata anche dalla medicina del lavoro, è il secondo grande desincronizzatore che è stato scoperto dopo quello rapido di spostarsi con l'aereo. Il fatto che la vita sulla Terra è stata sempre scandita dalla luce delle stelle, della luna, del fuoco, cambia drasticamente nell'Ottocento. Quindi sono solo poco più di due secoli che l'illuminazione permette di illuminare anche di notte e quindi di produrre e quindi di fare lavoro anche durante la notte. Quindi per l'uomo negli ultimi 200 anni è cambiato drasticamente questo discorso. Il fare un lavoro a turni attualmente per alcune categorie è molto tutelato, ed è giusto che sia così. Noi che lavoriamo nel mondo della sanità, i nostri infermieri fanno un lavoro, anche noi facciamo i turni ma neanche da mettere con gli infermieri, e la rotazione è studiata in modo da fare turni brevi. Più il turno è breve, meno è disturbante per l'organismo. Quindi è meglio fare mattino, pomeriggio, notte, piuttosto che fare, come si faceva quando io ero giovane, una settimana di turni di mattino, una settimana di turni di pomeriggio, una settimana di turni di notte, una settimana di riposo. Se si dà il tempo all'organismo di organizzarsi, e poi lo cambiamo, e poi lo cambiamo ancora, è molto peggio che non dargli neanche il tempo di farlo perché ruotiamo. Quindi turni brevi, turni lunghi, i primi sono sicuramente favoriti, i secondi dove vengono fatti sarebbe magari il caso di darci un'occhiatina. Esistono categorie che fanno anche rotazioni mensili, e questo può portare a disturbi del sonno, disturbi dell'apparato digerente, irritabilità, anche un problema sociale di nervosismo perché non ci si sincronizza con gli amici, con i conoscenti, magari col partner. E quindi il lavoro turni è sicuramente la seconda grande categoria di desincronizzatore dei ritmi circadiani. C'è un limite oltre il quale si innesca questo disagio, cioè dopo due ore, tre ore di cambiamento di abitudini, o servono tempi lunghi, tipo sei ore, sette ore, come questi viaggi aerei intercontinentali? No, fino a diciamo 30-40 anni fa si prendeva ad esempio solamente il volo intercontinentale che attraversasse molti fusi, il lungo raggio, e si diceva no io faccio un viaggio a corto raggio per cui non avrò problemi. Poi in effetti si è visto, sempre gli americani che mettono tutto nel computer e hanno queste grandi statistiche, e specie sullo sport, dove sono attentissimi anche a ogni percentuale, un gruppo di Harvard, negli anni 90, ha voluto verificare l'ipotesi che quando si gioca, in questo caso hanno preso tutti i risultati del baseball, li hanno messi nel computer e hanno visto che se la squadra che gioca in casa riceveva l'avversario che avesse volato controfuso, cioè una squadra dell'Est che riceveva quelli della California per esempio, aveva il 54% di possibilità di vincere, e non il 50%, dopo aver fatto tutti i calcoli del giocare in casa, cioè dopo aver tolto i, come li chiamiamo noi, i confondenti statistici. E quindi si è visto che anche tre ore, Stati Uniti, cost to cost, sono tre ore, dà dei problemi. E poi c'è l'ora legale. Uno dice, ma un'ora? Che differenza fa un'ora? I dati sono impressionanti, i costi sanitari del cambio dell'ora legale sono l'1% del PIL dell'Europa. E quindi non a caso la Comunità Europea ha abolito, adesso lo dovremmo mettere in atto praticamente, il cambio semestrale. Non ha abolito l'ora legale, ha abolito il cambio semestrale. Ogni paese è libero di decidere quale tenere tutto l'anno. Alcuni paesi l'hanno già scelto, i paesi del nord vogliono tenere l'ora solare, i paesi tipo la Francia, la Spagna hanno scelto l'ora legale, c'è più luce d'estate, ci può essere un vantaggio. L'Italia ancora questa decisione non l'ha presa, ma dovrà prenderla perché poi ci sarà un'uniformità in cui si farà il cambio una volta sola, tutti i computer, gli orari dei treni, degli aerei, sarà una cosa costosa per tutta Europa, ma poi non si cambierà più, rimarrà fissa. Chiaramente ci sono dei pro e dei contro, ma si eviterà questo click che anche se un terzo delle persone su 200 milioni fate conti di un terzo che hanno disturbi gravi, i costi sanitari che vanno da incidenti stradali a infarti del miocardio, a crisi psichiatriche, a suicidi dei paesi del nord, ma anche semplicemente è il giorno ideale per i carrossai, si è visto il cambio dell'ora legale di marzo, che quando accorciamo la giornata si dorme un'ora in meno. C'è un po' meno di attenzione alla guida, è il giorno degli incidenti, quindi ci sono tantissimi dati che contribuiscono a questo concetto e andrebbero anche un po' spiegati perché la scelta è una scelta che va fatta in maniera, diciamo, razionale. Vi ricordo che siete all'ascolto della Sanità Parla con Te, il programma di Radio Dolce Vita, realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie locali. Tutti lunedì alle 12.10, in replica, il giovedì alle 19.10, incontriamo i professionisti delle nostre aziende sanitarie. Oggi è con noi il professor Roberto Manfredini, che è il direttore dell'unità operativa complessa di clinica medica dell'azienda universitaria ospedaliera di Ferrara. Con il professor Manfredini abbiamo aperto il nostro programma parlando di jet lag. Ritorno al jet lag, professor Manfredini, per chiederle chi magari è in partenza per un viaggio, il famoso viaggio di vacanza di cui parlavamo prima. Come può affrontare questa cosa che sicuramente, se fa un viaggio, abbiamo visto anche a medio raggio, si ritroverà all'arrivo? Ecco, quali sono i consigli che può dare a chi si appresta, appunto, ad incontrare questo disagio del jet lag? Abbiamo detto poco fa che questo discorso vale circa per un terzo della popolazione, quindi probabilmente molte persone si conoscono e quindi sanno se altre volte hanno avuto problemi oppure se hanno avuto problemi. Se hanno avuto problemi, qualche piccolo trucchetto quotidiano glielo possiamo dare, perché visto i costi delle vacanze, specie quest'anno, e dei voli, avere una settimana e stando così così perché uno ha il fuso orario, insomma, non conviene a nessuno. Allora, in prima battuta bisogna già programmare e sapere dove si va, cioè se si volerà verso ovest o verso est, in modo che uno può qualche giorno prima cominciare un po' ad adattarsi. Il preadattamento è sempre la cosa forse più facile. Andare a letto mezz'ora, un'ora prima o alzarsi mezz'ora, un'ora prima, a seconda della direzione del nostro volo, per i 3-4 giorni prima, già ci darà un piccolo aiutino biologico all'organismo perché non sarà sorpreso da questo cambio. Un altro piccolo consiglio, io per esempio porto due orologi, perché piace a me avere l'orologio con l'ora italiana e l'orologio con l'ora della destinazione finale. Questo è un po' per regolarmi, perché è molto importante prepararsi già durante il volo. Per esempio, dormire se dobbiamo dormire, non è obbligatorio stare svegli e guardare il film mangiare, cioè regoliamoci sulla base del dove dobbiamo andare, per fare in modo di dormire o stare svegli nell'orario giusti, per essere pronti quando arriviamo più vicino possibile all'orario normale, perché il trucco è vivere la giornata il più possibile nell'orario locale come lo vivono le persone dove arriviamo. Quindi se è pomeriggio negli Stati Uniti, se uno va in albergo, fa il pisolino, per noi sono le 9 di sera, si sveglia che sono le 2 di notte con l'orologio e non ha più nè da mangiare, ha la televisione tutta la notte che i programmi americani sono peggio dei nostri. Quindi una bella passeggiata, prendere luce e magari, mangiare anche presto, per carità che sarà la mezzanotte nostra, che sarà le 6 o le 7 loro, però vivere quello. È la stessa cosa quando si va a Est. Una bella presa di luce, è il sincronizzatore dell'organismo, una camminata alla luce. La melatonina può dare una mano, per chi lo soffre, un milligrammo di melatonina, preso se si va verso ovest dalla seconda sera, la prima non c'è bisogno, crolleremo di solo. E se si va verso, se si è in Cina per esempio, prenderla la prima sera, pressa poco alle 21, le 22, l'ora in cui dovremmo andare a dormire, anche se noi non siamo pronti, per aiutare l'organismo 3-4 giorni, non dà nessun problema e potrebbe essere un aiuto. Durante il volo anche il mangiare può aiutare, perché glucidi, zuccheri facilitano un po' la presa di sonno, le proteine tengono un po' svegli e quindi per quel po' che si può con la dieta di un aereo, cercare di fare in modo di scegliere qualcosa di congruo e se possibile attenzione alla coca cola, al caffè, cioè a tutte quelle sostanze che tengono svegli, perché se dobbiamo stare sveglie nell'ora in cui andremo è benissimo il caffè e la coca, altrimenti no, perché ci sfasa i ritmi. Ecco, diciamo che questi sono dei piccoli trucchetti del quotidiano per chi viaggia, per cercare di ridurlo un po'. Bene, ringraziamo il professor Manfredini per quanto ci ha detto e questo immagino che prevenire un po' questo nostro viaggio attraverso i suggerimenti che ci ha dato il professor Manfredini ci permetterà anche di goderci al meglio le nostre vacanze e quindi di non perdere quei due o tre giorni in uno stato un po' scombussolato. Ringrazio il professor Roberto Manfredini per essere stato con noi, vi ricordo che è il direttore dell'unità operativa complessa di clinica medica della nostra azienda ospedaliera universitaria e vi do appuntamento alla prossima puntata della Sanità Parla con Te tutti lunedì alle 12.10 e tutti giovedì alle 19.10 quando incontriamo i professionisti delle nostre aziende sanitarie. Grazie a tutti voi per l'attenzione che mi avete dato e buone vacanze a voi che andate e pensate anche a chi rimane ancora. Avete ascoltato? La Sanità Parla con Te Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara